Con una battuta si sente molto parlare di questo argomento partendo dal campionato di Serie A, massimo rispetto anche per un'ex squadra che l'ha presentato in passato dopo il gol, abbiamo visto che non hai insultato per rispetto verso il pubblico. Sono stato insultato anche a bell'aria quindi penso che siano caduti tutti i miti, nel senso che ho sentito qualcuno prima del gol che mi aveva detto addirittura qualcosa, quindi mi è dispiaciuto, dai dispiace, però ormai queste cose penso che facciano parte della gente che viene allo stadio magari un po' frustrata e magari dice delle cose senza senso. Io penso che a Bellari, due anni di Bellaria, abbiamo fatto due autentici miracoli dove tutti, veramente tutti hanno dato sempre tutto comportandosi da uomini fino all'ultimo secondo, quindi io vado a testa alta, poi ti ripeto il gol, alla fine sono stato anche contento, è inutile negarlo, alla fine ci ha portato un punto che per noi è importante. Lasciamo andare Marco Bernacci, grazie e buon campionato. Grazie a tutti.